Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Weekend con più sole quasi ovunque ma, attenzione, un nuovo peggioramento è alle porte. Il famoso meteorologo conferma un sabato in prevalenza soleggiato, salvo piovaschi a tratti diffusi al sud. Il tempo in miglioramento sarà associato al moto verso la Germania della violenta perturbazione che ha colpito in settimana il nord Italia. Le temperature sono previste in aumento fino a 30 gradi centigradi al centro, al sud continueremo ad avere picchi estivi, 34 gradi centigradi in Sicilia nonostante qualche pioggia, e al nord arriveremo a 26 o 27 gradi centigradi. Dopo un sabato discreto, ecco che, però, la domenica vedrà subito l'arrivo di una nuova perturbazione. Le piogge colpiranno gran parte del centro sin dal mattino, localmente il sud dell'Emilia-Romagna dal pomeriggio. Assisteremo comunque ad un generale aumento della nuvolosità anche se le precipitazioni significative cadranno su Toscana, Umbria e Marche. Le temperature saranno ancora stazionarie nonostante la maggiore nuvolosità, in calo solo nelle zone più piovose. Il maltempo tornerà prepotentemente alla carica ad inizio settimana, quando giungerà un fronte collegato all'area ciclonica collocata tra Spagna, Francia e Mediterraneo occidentale. Non tutta Italia sarà coinvolta, visto l'anticiclone subtropicale che tornerà ad ergersi verso il sud della Sicilia. Le regioni del nord, ma in qualche modo anche il centro Italia, risentiranno in pieno dell'azione perturbata. I forti contrasti termici enfatizzeranno il maltempo e i fenomeni violenti associati. Il clou delle precipitazioni è atteso martedì al nord, con piogge battenti e rischio nubi fragili.